Buongiorno e benvenuti alla Rassegna Stampa di oggi, venerdì 11 agosto. Ci sono un sacco di cosettine interessanti sui giornali, nel senso che vale la pena commentarle molto più di quanto abbiamo fatto nei giorni scorsi, anzi ieri non ho fatto neanche questa Rassegna Stampa. E tanto la cosa che oggi colpisce di più, se avete voglia di leggere, sono le cosiddette carte segrete sull'inchiesta di Trapani riguardo le ONG. In genere i titoli dei giornali sono sempre un po' esagerati, carte segrete. In realtà le carte, non so se siano segrete, ma sono davvero interessanti. Il pezzo di Fausto Biloslavo racconta esattamente cosa succedeva sulla nave tedesca Juventa che stava, come cavolo si chiama, che stava sostanzialmente nelle acque territoriali libiche. Allora vi racconto alcune cose. La prima cosa ovviamente a parlare è uno di Save the Children, ma che non era dei rappresentanti di Save the Children, ma era diciamo della sicurezza di Save the Children, che vedeva quello che avveniva sulla barca tedesca, che però era abbastanza nota nell'ambiente. Intanto in questa barca tedesca ha detto che aveva notato, il procuratore ha notato nell'ordinanza, che c'erano degli incontri spesso tra i lead, tra i capi della barca tedesca e degli scafisti. Dopo questi incontri, con un barchino avvenivano questi incontri, dopo questi incontri cosa succedeva? Arrivavano nella prossimità di questa barca tedesca invece dei veri e propri barconi pieni di immigrati. Poi gli scafisti venivano restituiti i barconi, cioè prima si incontravano con i volontari, poi si mettevano d'accordo, poi arrivavano con i barconi e poi se ne andavano via con i barconi senza il loro carico umano. Non so se ci rendiamo conto. Restituivano dunque i motori, restituivano tutti gli armamentari possibili per fare il traffico di uomini. Ce ne è per metterli in galera per i prossimi anni. L'altra cosa fantastica che racconta Biloslavo è che nessuno di questi era in pericolo di vita, perché ovviamente questo è un servizio vero e proprio, non lo volete chiamare di taxi perché si offendevano quando Di Maio diceva che era taxi, ma di traghettamento, va bene? Traghettamento né più né meno. Tra l'altro tutta questa operazione veniva vista dai signori di Save the Children che sapevano ma che hanno negato più volte alla polizia quello che succedeva su questa barca tedesca. Quindi Save the Children guardava perché questa barca tedesca faceva questa operazione e poi trasbordava Save the Children che conosceva tutto l'Ambaradam, va bene? e avevano foto, immagini e non davano nulla alla polizia. Omertà totale. Non voglio fare come i procuratori di Roma che parlano di mafia per mafia capitale, ma qua gli stessi procuratori potrebbero chiamarlo, se fosse politicamente corretto, mafia ONG. Basterebbe che ci fosse un ex NAR tra questi invece che un ex dei centri sociali che fanno casino sul Brennero e sarebbero a posta. Tra l'altro si scopre dalle carte che quel famoso sacerdote eritreo Zerai per i quali l'avvenire di Tarquinio ha detto che il giornale è un giornalaccio e espande informazioni sbagliate, che è indagato, aveva una chat segreta e che nessuno conosceva, conoscevano tutti ma nessuno poteva vedere, con non solo i capi delle ONG tedesche, ma con molti di queste ONG per far sapere loro dove sarebbero arrivati i migranti. Questa non è un'operazione di salvataggio, questa è un'operazione di traghettamento, punto. Ma se leggete queste carte la cosa vi fa rabbrividire. Tra l'altro riguardo al direttore di Tarquinio, l'arrogante direttore Tarquinio, il superbo Tarquinio dell'avvenire, lo conosco bene perché quella volta che lo invitai e lo invito anche altre volte a Matrix perché rappresenta un mondo che è interessante conoscere, ma ha un'arroganza nei confronti di tutti gli altri incredibile. Beh, lo ha avuto anche nei confronti del giornale. Insomma, ci ha preso in giro dicendo che eravamo la macchina del fango, eccetera. Ma il presidente della conferenza episcopale italiana, cioè un sacerdote, che ha detto, il cui giornale di riferimento è ovviamente l'avvenire, dice a lui quello che dice sicuramente, ha detto ieri Sallusti, l'altro giorno Sallusti, la CEI è fatta da 150-140 vescovi e che ognuno di loro ha un'idea diversa e quindi arrogarsi il diritto che Dio giudicherà quelli che sono contro le ONG, beh, insomma, è una cosa che non possono fare né i vescovi né Tarquinio. E il capo dei vescovi ieri dice, attenzione alla legalità, insomma, un calcetto alla posizione buonista e assurda del reato umanitario posta dall'avvenire. Nordio, fantastico, vi leggo soltanto il titolo, i narcisisti dell'accoglienza e le rivoluzioni che ci sono nelle parrocchie in Veneto, perché non riescono a capire i cattolici che vanno a messa, se ne sono pochi ormai, per quale motivo i loro sacerdoti non si rendano conto di quello che sta avvenendo nel loro città. Bene, questo per quanto riguarda le ONG. Un'altra questione che a me mi ha affascinato, sono due, la prima è quella cosa incredibile che è venuta sul Gargano, sarà perché sono di quelle zone, ma mi sembra fantastico il fatto che in Italia noi abbiamo indagato per anni con titoli dei giornali mafia capitale che era fatta da quattro rubagalline, come dicono proprio in Puglia, cioè da gente che rubava proprio sugli immigrati, ma che forse menava, forse intimoriva, forse storceva, ma quello che è avvenuto a Foggia è un tipico agguato mafioso nei confronti di una persona che è uscita da sei giorni dal carcere, sei giorni dal carcere, ci sono le cronache oggi perché Minniti ha detto che manderà 200 nuovi poliziotti, speriamo, a Foggia, sei giorni che esce dal carcere, dopo due attentati falliti, dopo sei giorni prendono con un Kalashnikov e gli fanno un agguato in campagna, lo ammazzano, ci sono due testimoni, due poveracci, due contadini, basta vedere oggi le facce, due uomini che nessuno piangerà a livello nazionale quanto i loro parenti piangono lì localmente, quando tutti noi dovremo piangere, ebbè vengono inseguiti nei campi e uccisi perché testimoni del fatto che c'era stato quell'agguato nei confronti di quel sì capo mafioso. Bene, la mafia la cerchiamo a Roma con dispiegamento di forze, di tensione, di giornalisti e non l'abbiamo trovata a Foggia, dove esiste veramente e dove oggi lo dice il procuratore Roberti, ma lo dicono da anni tutti, i magistrati dicono che a Foggia, forse bisognerebbe pensare di combattere contro una faida, qualcuno di voi dice che dura dal 1978, dal 1978, lì la mafia è un problema, non a Roma, il problema a Roma è la corruzione, l'ATAC, i disastri, i banditi, gli scippatori, ce ne sono tanti problemi a Roma, ma la mafia è lì e bisognerebbe combatterla con gli strumenti della mafia, Kalashnikov esce dalla galera, nessuno gli aveva dato l'associazione mafiosa, è uscito dalla galera perché il Tribunale del Riesame non gli aveva avuto nei suoi confronti un atteggiamento molto diverso rispetto a quello di Carminati che è stato due anni al 416 bis, mentre questo mafioso, ucciso dopo 16 giorni, è uscito perché il Tribunale della Libertà l'ha fatto uscire per un altro reato che era assalto ai porti valori, ma vi rendete conto? Carminati ha il 416 bis, il fascista orrendo dei NAR, e questo poi è condannato a 20 anni per carità per i furti che ha fatto e le istruzioni che ha fatto, e questi qua invece escono e entrano dal carcere come se non fossero mafiosi, invece lo sono, io non lo so se questa vi sembra una cosa normale, ma delle cose normali ce ne sono poche in questo paese, andiamo velocemente su altri due temi, quello incredibile è quello che sta avvenendo a Bologna, soltanto la prima pagina del resto del Carlino in cronaca ne parla diffusamente, mi sembra che lo faccia anche libero, ma insomma vi sembra normale che vengono tolti da, vengono cacciati da un locale occupato degli antagonisti dei centri sociali, è quel cazzone del sindaco di Bologna, scusate il termine, mi scuso anche lui, ma veramente è una cosa che mi fa indignare, gli dà un palazzo che era destinato alla cittadella della giustizia perché il tribunale di Bologna scoppia, magistrati e avvocati vengono fottuti perché dei ragazzi si prendono, dei ragazzi dei centri sociali, si prendono uno stabile, vi dico io, sapete di quanti? Di 90.000 metri quadri, qual è il bando per farlo? E il voto di scambio? Che sono state fatte delle leggi sul voto di scambio perché si danno i favori? In questo caso non c'è perché vengono aiutati dei centri sociali che votano e che evidentemente hanno simpatia nei confronti di Merola, e poi i bandi per dare gli spazi pubblici non ci sono in tutto il mondo, soltanto a loro vengono date le cittadelle della giustizia senza nessun bando, soltanto con l'unica presunzione che loro hanno occupato e che sono dei facinorosi, e ancora il codice degli appalti, non lo so, tutte le regole italiane, tutte le trasparenze italiane, ma sarestero dato quel locale, non so, a un'associazione di cattolici magari non amici di Tarquinio, o un'associazione di Forza Italia, o un'associazione di centrodestra, ma gli avrebbero fatto un mazzo così? Che diritto hanno? 90.000 metri quadri, li avevano appena sgombrati da un altro luogo? Io non lo so, poi dopo vedi l'assessore all'economia che quando in un'intervista oggi da qualche parte dice bisogna aprire un laboratorio di partecipazione, ci vuole immaginazione civica, io dico ma questi dove sono usciti? Ma io dico dove sono usciti? L'assessore all'economia bisogna aprire un laboratorio di partecipazione, ma porca, sono contento guarda quasi di stare con la raggi, quasi di stare con la ragione, anche se voglio dire, certamente con Beppe Sala a Milano meglio che aprire un laboratorio di partecipazione, un'immaginazione, Bologna si merita sta roba qua, proprio se la merita, va bene? Vabbè, l'altra cosa che volevo dire, incredibile, il sindaco di Licata, il sindaco di Licata pure si merita quello che ha, aveva sgombrato 67 case abusive e viene fatto fuori dalla maggioranza del suo consiglio comunale, almeno così si dice, io leggo tutti quanti i giornali che così lo descrivono, centro, destra, sinistra, Gian Antonio Stella, Libero, tutti quanti sono scandalizzati dal fatto che hanno fatto fuori il sindaco di Licata, non conosco bene la storia, leggo quello che scrivono sui giornali, ma una cosa è certa e che mi piace molto del sindaco di Licata, dice col cavolo che adesso mi date la solidarietà, tenetevi in piedi quando era possibile farlo, perché ovviamente il giorno dopo sono tutti solidari col sindaco di Licata, ma fino al giorno prima non lo era nessuno, Alfano e i suoi gli hanno fatto finta di stare con lui e poi dopo ovviamente la maggioranza dei 21 che l'ha sfiduciato, cioè va dentro anche gli uomini degli Alfagnani. Bellissimo oggi, se volete, su Italia Oggi, Morra che parla, Gianfranco Morra che parla d'amore, l'ingegnere, o d'amore, non so come cavolo si chiama, l'ingegnere di Google fatto fuori per il manifesto cosiddetto sessista, in cui dice il fatto che ci siano delle differenze Morra tra uomini e donne e di limpida evidenza, il fatto che abbiano diverse dignità non l'ha detto nessuno, nemmeno che mai il Morra. Tutti quanti i giornali inglesi, molto meno in Italia, Daily Times, Hill Times, si stanno occupando di questa cosa delle uova contaminate, perché è una cosa incredibile, è incredibile queste uova fatte da Belgi e da Olandesi che fanno letteralmente schifo, perché hanno utilizzato degli pesticidi animali per far fuori degli insetti e lo hanno fatto contro legge e queste milioni di uova sono state sparse per tutta Europa in maniera low cost. Oggi pomeriggio sembra che siano arrivate anche in Italia, in realtà si tratta di residui, di pesticidi che non fanno nulla, soprattutto perché sono ingeriti una volta, fanno pochissimo, non fanno così male al fegato come ovviamente l'allarmismo sempre vorrebbe, ma detto questo, con i migliaia di controlli alimentari che abbiamo, la cosa incredibile è che Belgi e Olandesi di questa cosa si sono accorti a novembre dell'anno scorso e ce ne accorgiamo oggi, viene diffuso l'allarme oggi. Forse le autorità belghe e olandesi, questi fenomeni del controllo, del rigore europeo, qualcosa potrebbero dire. Insomma, cosa dici dello schifo di Ceta? Io dico che è inutile che ci lamentiamo di Ceta, anzi la libertà dei commerci è utile, basta vedere che riusciamo a fare in casino noi nel mercato europeo unico, in cui facciamo finta che ci siano controlli e precauzioni incredibili e poi ci facciamo fregare da costoro. Bellissimo, oggi il pezzo di Luca Enriches sul Corriere della Sera, ve lo segnalo come ultima segnalazione in cui dice il diritto dovrebbe essere lo strumento che serve gli individui e le imprese per andare avanti, in realtà è diventato un ordine superiore al quale la realtà economica deve piegarsi e i giudici e funzionari pubblici diventano titolari di un potere assoluto. Insomma, tesi austriaca sul diritto a Yechiana scritta da Enriches sul Corriere della Sera. Siamo in vacanza, avete due giorni per riposarvi, quindi forse è il caso di leggerlo se avete tempo. Saluti e appuntamento domani, ciao!